E' bella gente, andiamo qui qua presente questo è il calcio Lazio e Atalanta hanno fatto vedere cos'è una partita di calcio quella che vorrei vedere tutte le domeniche 3 a 2, Piero Tecnico avanti la Lazio 2 a 0 la rimonta dell'Atalanta poi ritorna in vantaggio la Lazio e il Tati che mi fa goal e assist e il Tati che dire, che dire non pensavo vincesse la Lazio io la vediamo molto da X e da goal ma non pensavo andasse a vincere la Lazio Sarri viene espulso ma la prepara abbastanza bene l'Atalanta paga maggiormente che la Lazio le competizioni europee perché comunque i ragazzi di Gasperini oggi erano stanchi un Frosinone che adesso ci arriveremo perché anche il Frosinone con un sulle spettacolo Barri Nexea bravissimo comunque ripeto la Lazio vince convince e batte e aggiunge una vittoria molto importante per la lotta alla Champions per la lotta all'Europa è un tassello molto importante molto importante di Sarri pensiamo al Frosinone io non avevo dubbi questa squadra davvero farà godere i propri giocatori perché giocano veramente bene io ancora oggi mi chiedo come cazzo si fa a dar Sule in prestito è vero Allegri? eh? gran partita di Sule è già la terza o la quarta di fila che mette bravissimi già secondo gol consecutivo Barri Nexea gran bella partita con un Frosinone veramente forte veramente veramente forte mi sono piaciute adesso vedremo le altre il Napoli no la Roma e poi stasera il Napoli la Roma la guarderò ogni tanto perché raga adesso c'è Arsenal City come si fa a non guardarla iscrivetevi al canale mi raccomando fino alla fine e poi c'è il beccione del dog iscrivete